La fantastica fisarmonica di Stefano Albano arriva a questa novità, Sharafè! La fantastica fisarmonica di Stefano Albano arriva a questa novità! La fantastica fisarmonica di Stefano Albano arriva a questa novità! La fantastica fisarmonica di Stefano Albano arriva a questa novità! La fantastica fisarmonica di Stefano Albano arriva a questa novità! La fantastica fisarmonica di Stefano Albano arriva a questa novità! La fantastica fisarmonica di Stefano Albano arriva a questa novità! La fantastica fisarmonica di Stefano Albano arriva a questa novità! La fantastica fisarmonica di Stefano Albano arriva a questa novità! La fantastica fisarmonica di Stefano Albano arriva a questa novità! La fantastica fisarmonica di Stefano Albano arriva a questa novità! La fantastica fisarmonica di Stefano Albano arriva a questa novità! Stefano Albano è un collaboratore dell'edizione Farfallina! Abbiamo lanciato su questo palco qualche anno fa un grande successo nazionale! Vento d'Irlanda che dopo vi faremo sentire! Quindi rimanete sintonizzati! Ma questa sera abbiamo voluto portare proprio qui a Cantando Ballando questa novità in anteprima nazionale che nei prossimi giorni troverete anche su YouTube nel canale Farfallina Edizioni Musicale! Stefano ci abbiamo un compito importante prima di lanciare qualcosa che la dobbiamo lanciare insieme però dovete posare il telecomando perché qua se ne vedranno delle belle dobbiamo ringraziare un grande collaboratore dell'edizione Farfallina un amico che ha contribuito in modo positivo e professionale a questo brano il maestro Andrea Simiele! Grazie signori lanciate e lasciate stare il telecomando! Grazie a tutti!